Buonasera, buonasera a voi. Allora faccio subito una premessa perché purtroppo in questo paese bisogna farlo perché altrimenti ti danno immediatamente dell'omofobo, cosa che non c'entra nulla col mio modo di pensare e con la mia cultura. Io ce l'ho fortemente con quelli dei gay pride perché secondo me è una spettacolarizzazione, è mettere in mostra un qualcosa che non è necessario per rivendicare proprio eventualmente, caso mai non ci fossero dei diritti, ma io credo che siamo ben lontani da 40-50 anni fa perché adesso insomma credo che anzi abbiano più diritti gli omosessuali di quanto non ne abbiano gli etrosessuali e quando si presentano sul posto di lavoro, per quanto riguarda le file che devono fare per adottare i bambini e tante tante altre storie che ormai abbiamo imparato a conoscere, quindi nessuna discriminazione. Ma ammettiamo anche che debbono ancora rivendicare qualche cosa, io credo che quello non sia la forma giusta. Premessa ho detto per dire che io non ce l'ho assolutamente in generale con gli omosessuali, ho degli amici, ho persone che ho anche citato più volte che sono un vanto del nostro paese, mi capita spesso di citare la coppia Dolce e Gabbana. Allora veniamo invece al titolo che è molto chiaro perché mi veniva mente oggi riflettendo, continuando a sentire parlare di discriminazioni, discriminazioni, dobbiamo ancora lottare perché siamo discriminati, perché siamo ancora emarginati e così via. Ma io voglio dire a questi signori che organizzano i Gay Pride, ma voi dove eravate durante il Covid? Quando persone che legittimamente avevano deciso di non aderire alla vaccinazione, quando persone assolutamente in modo legittimo avevano deciso di fare un percorso diverso, ecco voi non siete mai scesi in piazza accanto a queste persone e ancora meno quando poi si è introdotto il Green Pass, una discriminazione bestiale che non c'era mai stata per quanto riguarda il mondo del lavoro. Quindi vedete bisogna fare molta attenzione quando si rivendicano delle cose, perché le rivendicazioni vanno fatte non solo quando riguardano il nostro orticello, ma in generale per essere accanto alle persone che soffrono, per essere accanto alle persone che vengono realmente discriminate. Ma in queste circostanze, ripeto, gli omosessuali io non li ho visti, i Gay Pride, quelli che organizzano i Gay Pride non li ho visti, non li ho mai visti scendere in piazza accanto appunto ai No Green Pass. Io ho partecipato a tantissimi cortei a Milano e mai ci hanno contattato o hanno aderito con le loro sigle a questo tipo di manifestazioni. Quindi questo insomma la dice un po' lunga su come stanno le cose. Ora vi stavo dicendo prima che fino a 40-50 anni fa sicuramente non c'è alcun dubbio i Gay erano discriminati, i Gay erano messi da parte e hanno subito delle cose talvolta anche ininarrabili, le discriminazioni che hanno subito nel mondo del lavoro e non solo. Mi viene un po' da fare un'analogia con gli ebrei, che sono stati i più perseguitati del secolo scorso, così come sono stati perseguitati sicuramente anche i Gay. Ma guardate com'è curiosa la vita e com'è curiosa la storia. Quelli che sono stati più perseguitati adesso sono in molte situazioni i più violenti, i più aggressivi, quelli che di più hanno atteggiamenti insopportabili. Lo vediamo per quanto riguarda gli ebrei quello che succede in Palestina e vediamo per quanto riguarda la prepotenza di alcune lobby Gay per quanto riguarda le loro rivendicazioni come ho avuto appunto modo di sottolineare. Ripeto in conclusione non si tratta di fare di tutto un erbo un fascio ma voi capite bene che è dai piccoli numeri che piano piano anno per anno stanno avanzando che bisogna ragionare e fare i conti e bloccare prima quella che può diventare una deriva molto molto pericolosa. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.